Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Fiskets. Dopo alcune settimane vi riporto questo fantastico sito, uno dei migliori siti in circolazione attraverso tante cripto monete in maniera totalmente gratis che potete minare. Oggi farò vedere la prova di pagamento veramente interessante. Questo sito ragazzi c'è da diverso tempo, quindi super pagante, super consigliato. Ne andiamo a vedere appunto oggi. Detto questo, oggi farò vedere le migliori strategie e anche la prova di pagamento. Mi raccomando come sempre lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video. Se vi piacerà il video mi raccomando è importantissimo per stare all'argomento di YouTube e riscrivervi come sempre se avete qualche dubbio e domande a questo gruppo Telegram. Allora ragazzi, perché vi consiglio mining.online? Mining.online ragazzi è un sito di cloud mining veramente super affidabile per ora. C'è la registrazione come tutte le cose, lttd ragazzi c'è davvero da tanto tempo, si parla di diversi mesi, questo ragazzi è veramente diversi diversi mesi, cioè il sito è veramente fatto bene. La cosa bella di questo sito è che puoi mettere queste 7-8 crypto monete ragazzi a minare praticamente. Puoi fare il contratto che è illimitato, quindi un contratto illimitato per sempre. E' veramente ragazzi una soluzione ottimale per guadagnare un po' di soldini totalmente gratis, poi ovviamente più ci investite e più ci guadagnate. Il servizio è attivo da diverso tempo, quindi veramente ottimale. Cosa riuscite a fare ragazzi? Se volete supportarmi, link in descrizione qui in basso attraverso il link di affidazione trovate o sotto il video o sempre sul nostro gruppo Telegram per rimanere aggiornati. Attraverso il link vi appare questa pagina e praticamente guardate cosa potete fare attraverso questa pagina potete minare queste 8 crypto monete Ripple, Digiobite, Ethereum, Dash Litecoin, Bitcoin ecc. Il mio consiglio è fare di Dogecoin subito se volete minare perché il preleve è veramente basso. Nulla ragazzi, qui è per creare il deposito e se volete depositare potete depositare con tutti questi metodi basta fare Bitcoin, mandare questo portafoglio e scegliere la quantità e ve lo accreditano subito. Qui ci sono i partner, qui c'è il giveaway ragazzi che non so se funziona, non ho provato anche per acquistare 100 dollari in maniera totalmente grave qui c'è il bounty che mi hanno dato già un po' di soldini per appunto aver spammato, quindi sito ottimale. Detto questo, cosa c'è da vedere? La migliore strategia su questo sito, come ho detto, è andare esattamente nella sezione mining andare subito a minare Dogecoin che è veramente bassa andare alla sezione withdrawl praticamente come vedete in BTC c'è questo qua Dogecoin sono solamente 4 Dogecoin ragazzi ovviamente ognuno ha il più basso comunque vi consiglio Doge che è il più basso di tutti c'è uno dei più bassi e prelevi veramente in poco tempo. Ho fatto la richiesta 15-20 minuti fa di 4 Dogecoin minimo per provare ovviamente il sito mi ha pagato quindi ovviamente ce lo garantisce. questo ragazzi il wallet personale mi ha completato la cosa quindi in 15-20 minuti mi hanno pagato questa prova di pagamento mi ha levato solamente un Dogecoin di fee però ci sta quindi 3 Dogecoin 60 centesimi mi hanno pagato quindi super sito consigliatissimo. No ragazzi, breve video ma intenso secondo me è un ottimo sito per guadagnarci qualche piccola soddisfazione ovviamente più ci investite ci guadagnate non sono consigli finanziari ognuno fa di stata propria ci vediamo al prossimo video grazie per avermi seguito mi raccomando per sempre un bel pollicione, like, sezione e campanella iscrivetevi sul gruppo Telegram se avete domande, risposte eccetera grazie per avermi seguito ci vediamo al prossimo ciao ciao